Un'operazione che segue temporalmente quella della scorsa settimana quando abbiamo arrestato un cittadino iraniano richiedente asilo ospitato al centro di accoglienza di Arcevia. Oltre alla droga aveva, come ricorderete, anche un documento falso. Abbiamo quindi investigativamente risalito la filiera e siamo arrivati a individuare quella che secondo noi era una centrale di spaccio di questi documenti falsi nel quartiere di Posatora. Abbiamo fatto un'irruzione ieri sera, abbiamo trovato un altro cittadino iraniano del 1991 in possesso di documenti falsi ma anche di un kit per la importazione, probabilmente riteniamo dall'estero, di questi documenti falsi. Aveva anche 1200 euro di cui non ha saputo giustificare il possesso visto che è nulla facente, vestiva bene. Quindi probabilmente questa era un'attività illecita che andava avanti da qualche tempo per fornire ai vari soggetti stranieri che ne avessero bisogno dei documenti falsi. La vicenda appare un po' inquietante anche perché non sappiamo la portata in questo momento del fenomeno e quindi faremo gli opportuni approfondimenti investigativi. Grazie.